Allora se siamo comprati due giocattoli e il tuo un po' più comprati non importa, i soldi non compro, ognuno lo compra quello che può, un po' rassicuratore che non è rassicuratore un po' roroggiato che non è un roroggiato povero, se compra per padre di tutti i droni. Allora, adesso lo provi e interviene l'antidrone, perché visto che l'antidrone siamo provati. Sei un po' vicino a Francesco che non è capitano, è proprio capitano lui insomma, togliamolo papà, togliamolo papà, e il mastro si è comprato il padre di tutti i droni. A questo per me è più simile a una bilancia, in teoria vuole così, che fanno messe le eliche. Che le eliche fanno di questo, fanno di questo, come fanno tutto, molto morbida, io mi sono comprato un giocattolo, non fatto che costi di meno, meno complicato, molto più antico, ma una graffigata, che non ti comprare perché te lo regalerò io. Il piatto per i vinili. Il 1200 Bluetooth. Il 1200 Bluetooth. Ti ricordi il 1200? Tappo, tavo, 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 tavo. Saus, saus. Allora questo qua fa snaus a babaus, senza avere tutto l'impianto che aveva un tempo, senza ricomprarlo, perché si collega bluesnaus. Questo fa bluesnaus sulle casse Saus e si sente, ah la piotta è 29, secondo te stavo male? Ma senza sconto? Ma che beffiato sconto? Se stavo bene tutti stavo bene. E il drone l'hai pagato un po' di più, ma non importa, quanto le piace, dimmi quanto le piace. Ho avuto, vedo l'ora, ho avuto la carica tutto, guarda là. Hai venduto un orologio e ti sei andato a fare caro. Esatto. Ho venduto la polizetta e mi sei andato a fare caro, ma secondo te stavo male? Stavo. Che vita sarebbe senza drone? Che vita sarebbe senza venire in Bluetooth? Viva la vita, tutta la vita!